Beh, credo anch'io che anche in questo caso ci sia stata non una semplice confusione terminologica, ma dei messaggi che miravano a ottenere il più vasto consenso possibile attraverso la redistribuzione. Il punto è aiutare chi non ha un lavoro, come la signora del servizio, a trovarlo. Ma questo è politica attiva per il lavoro e non ha niente a che fare con il reddito di cittadinanza. Però mi dà il tempo di rispondere. Facciamo, chiariamo. Sui pensionati che hanno difficoltà noi andiamo a integrare quella quota che è necessaria per arrivare a un minimo di sostenibilità, con i dati dell'Ista, non è che l'abbiamo scelta noi la soglia. Primo, quindi sgombriamo il campo dagli anziani e andiamo su quelli in età lavorativa. Il reddito di cittadinanza è uno strumento che esiste in tutta Europa. Lo si vuole chiamare un altro nome? C'è una strategia comunicativa? Io questo non lo so. Di certo per me questo era l'impegno con i cittadini e questo è quello che perseguiamo. Però io faccio un esempio. Ieri il presidente Macron, francese, quello decantato, bravissimo, europeista, ha annunciato che farà anche lui il reddito di cittadinanza in Francia. Ha annunciato 10 miliardi aggiuntivi che andrà a inserire in manovra. No, mi faccia finire questo passaggio. Lui praticamente con questi 10 miliardi aggiuntivi andrà a superare la soglia del 3%, arriverà al 3,4%. Noi ci stanno ammazzando per 2,4% e la Commissione Europea ha risposto Ah, l'infrazione la valuteremo in primavera. Perché adesso... Fornero, questa è una freccia all'arco del governo obiettivamente. Ma scusi, noi adesso allora diciamo, facciamolo 0%, siamo a cavallo, ci approvano il bilancio, poi facciamo il 5% e diciamo, beh, dopo l'Europa ne parliamo. Ma che serietà è questa? Professore, ma siamo i figli di serie B, non ho capito io. No, no, la serietà è anche da parte di chi non deve, come dire, cercare di trarre vantaggio dai guai altrui. I francesi ne hanno abbastanza, ma non è che questo deve rafforzare il governo italiano in scelte che sono sbagliate. Ognuno è stato il francese e l'italiano. Non ho parlato dei francesi elogiando il Presidente Macron, anche se io ho avuto fiducia in lui e lo dichiaro apertamente. Ma il punto non è questo, il punto è che noi dobbiamo giudicare le nostre politiche per quelle che sono. E le nostre politiche sono fortemente sbilanciate a danno dei giovani e delle generazioni future. Perché le promesse che sono state fatte non sono finanziate attraverso tagli di spesa, ma con un aumento del debito. E questo è molto sbagliato, visto che il nostro debito è già molto elevato. Questo dovete avere il coraggio di dirlo e magari anche di correggere la precedente impostazione. Lei ci sta dicendo, praticamente come ho già visto in passato, e quindi lei è coerente su questo, dice tagliamo la testa e la vita agli italiani perché chi se ne frega che in Europa gli altri fanno quello che vogliono, noi dobbiamo star dietro dei parametri fogli. Queste espressioni le usate voi, io non le ho mai usate. Queste sono espressioni volgari che usate voi e che io non ho mai usato. Il tema è semplice, noi abbiamo un miliardo all'anno di fondi europei per i giovani che viene sprecato perché non viene utilizzato. Quindi i soldi per i giovani ce li abbiamo e dobbiamo aiutarli a farli funzionare. Il reddito di cittadinanza, se bisogna parametrarlo in maniera più corretta per renderlo efficace sui giovani, ci si ragiona, ci si lavora e il Parlamento serve a questo. Però ripeto, tornando al concetto Francia sì, Francia no. Il tema è semplice, siamo un paese che fa, vabbè, il tema è complesso, siamo il paese che da anni in Europa fa tra gli avanzi primari all'interno del sistema europeo, eppure il debito continua a aumentare perché se noi non aumentiamo la crescita non andiamo lontano. Stiamo andando incontro a un rallentamento dell'economia globale e noi dobbiamo muoverci con misure espansive, non farci del male da soli, perché secondo me è un errore complessivo dell'Europa. Il tempo si dice, ma non con soldi presi in prestito, perché poi costa tanto un volante professoressa. Voglio solo dire una cosa, nel frattempo avete dovuto usare molte risorse finanziarie per pagare gli interessi sul debito a causa dell'aumento dello spread, che non è un caso, ma deriva dal fatto che i mercati si fidano a poco. Quando la Fornero fece la sua manovra, che non fu perfetta perché ci sono state 8 salvaguardie successive che sono costate non per colpa sua 11 miliardi, lo spread non è sceso subito, ma è sceso progressivamente. Allora il tema è, noi oggi stiamo lavorando in Commissione Europea per trovare una mediazione, un accordo nell'interesse degli italiani e non dell'Europa. Aspetti, faccio finire questa cosa. Nell'interesse degli italiani e non dell'Europa, affinché lo spread vada giù perché diminuisce il rischio paese. Se poi gli italiani e l'Europa hanno interessi così divergenti, di certo.